Questa sera farò una live per tutte le persone che avendo incontrato YouTube, seguendo qualche persona, come posso essere io, come possono essere altri, vorrebbero fare il loro canale YouTube e in 11 mesi ho raccolto delle informazioni che vorrei condividere con voi. In una live che sarà a tema, che inizierà circa alle 21.15, metterò a disposizione di tutti quanti quelli che sono intenzionati a farsi un proprio canale con i propri argomenti, che siano inerenti a Camper o altro, perché io seguo molta gente e non so più timer. Se vi va, ore 21.15, questa sera abbiamo una live per la mia piccola esperienza che metto a disposizione di tutti quanti gli amici e anche chi vuole partecipare. Ci vediamo alle 21.15, ciao! Ciao!